la corda blu 46 io ho messo lì guardo manesca lui ci ne spiega e davide velei l'intrepito ho messo pure la possibilità di come i giornalisti lo so anche io c'è l'animbrago io si ti faccio mafera la grafica da destra però dalla parte di su se tu vuoi da qui 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 la 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 Mauro con la bandana, quando devi riprendere? Ecco Luigi in discesa Qua è proprio affizzata così eh? Si, aggrappata all'albero lui, all'albero poi a Liana quella lì ti tiene Capito? Attento, attento Quell'altra, quell'altra Liana lì, a destra, quella a destra Ok, guarda che tiene, tiene Davide è peggio di un cinghiale Anche Maresca è quasi come un cinghialotto Oggi, ve l'avevo detto che ci divertivamo Ecco Maresca che scenni Come te sei attaccato alla corda, Mares? Sto attento al sembratore, Mares Si, facciamo scherzare Sì, pure là sotto c'è sta Senti Luigi come fa pubblicità al canale suo Senti avventurosi, io adesso seguo le nostre vite Qui tutti avventurosi Maresca, Pelei, Rozzone, tutti avventurosi No, dentro me c'è una cascata bella come stagliata Quella si chiama il paternato Infatti dentro di me è fatta una fatta di esistenza Non è mancato da niente Perché bene, sai voi fatta C'è uno scivolo da qua e poi lo scivolo da qua Attenzione ragazzi che si scivola eh Vecchici Ecco lì, fino a questa smonta mezza foresta Penso, piano piano Passato con disinvoltura Una piccola cascatella Non si chiama maresca questa eh Perfetto 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 Porta su al sinistro il destro è meglio un'attività non ti accadete però non gli hanno un'altra chiede certo no via la maniera c'è bravo così via via quell'altra notica ma indietro né un'altra vuoi dire, ho due fettucce no, non la metterai non la metterai lascia lì è l'osso, l'osso da prima di tutto, prima di tutto la cascata che stiamo cercando non è che sapete il pericolo anche il pericolo ciògliela 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 grazie 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 veramente un po' ciò che credo perché dovrete cercare di s'intervare queste cose queste vite sia le più certose che si è bello, che si è stato così per tanti anni e quindi dovremmo anche noi vediamo l'uomo del monte lo fa una bella foto è guarda che è? che è? vediamo l'uomo del monte lo fa una bella foto è 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 grazie